In un'Italia sempre più affamata di messaggi meritocratici, afflitta dalle solite raccomandazioni politiche, nasce la petizione Mario all'Opera, una raccolta firma a sostegno dell'etual Mario Marozzi come direttore del Corpo di Balo del prestigioso Teatro dell'Opera di Roma. In un mese si sono raggiunte più di 2200 firme online tramite il portale webchange.org, firme assolutamente trasversali ma che vengono soprattutto dal mondo della danza. Tra i sostenitori d'eccellenza Lorella Cuccarini, Gino Landi, Franco Miseria e molti altri esperti del settore tersicoreo e attivi professionisti. La raccolta firme ha avuto inizio con la simbolica firma apposta su un grande manifesto nel comitato di sostegno dell'iniziativa. Perché sostenere Mario Marozzi? Perché è un ragazzo bravo, che merita, capace, studiato tutta la vita e sono sicuro che sarà capace anche di condurre questa nuova esperienza. Poi un italiano? E poi romano principalmente, per cui basta un po' questi stranieri, siccome abbiamo crisi nel paese facciamo laureare gli italiani. Penso che faccia bene anche al teatro avere un ragazzo come a Rozzi. La raccolta firme accompagna una lettera indirizzata all'attenzione del sindaco di Roma, Ignazio Marino, nella qualità di presidente della Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma e del dottor Catello De Martino, sovrintendente del Teatro dell'Opera. Oggi parte la petizione per Mario Marozzi come direttore del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Parte oggi. Come mai questa idea? Perché? Beh, questa idea è nata un po' per caso, un po' per gioco, un pochino per aiutare quello che è la parte meritocratica dell'Italia, quella che vale, quella che ha un mestiere, quello che sa fare le cose. Abbiamo il desiderio di aiutare, di consigliare, ecco, di consigliare una persona che secondo noi ha tutte le carte regola per poter fare un ottimo lavoro. Attualmente in carica c'è un direttore del Corpo di Ballo che è Mischa Vanuc. Scadrà questo incarico e quindi non si sa chi prenderà il suo posto o se... No, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché magari alcune persone possono pensare che io voglia subentrare a Mischa Vanuc con forza, nel senso invece non è così, nessuno vuole mandare via il maestro Mischa Vanuc, che tra l'altro è una persona che io stimo molto perché è la persona che mi ha permesso anche di dare l'addio al teatro in un modo molto glamoroso, una cosa molto bella, una serata speciale con cartelloni, fiori, quindi questo è stato merito suo. Quindi, siccome sono una persona riconoscente, assolutamente no, lui avrà l'incarico quando scadere e io mi candido perché certe persone hanno proposto la mia candidatura. Quindi, se non dovesse essere riconfermato, qui c'è Mario Marozzi. Allora, io ho 51 anni, lo dico, posso aspettare, però prima o poi arriverà questo momento, come succede a tutti, c'è un ricambio, c'è un ricambio generazionale, quindi io aspetto con calma, non ho nessuna fretta. E quindi, la proposta è questa, poi vediamo se da raccolta. Grazie.